Da Gradara a San Benedetto del Tronto, passando per Iesi, Castelfidardo, Civitanova e Porto Sant'Elpidio. Sei tappe per un'intensa domenica di tour nelle Marche del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Una fitta agenda di visite ministeriali dedicate a fare il punto fra presente e futuro di un settore alle prese con una faticosa ripartenza, come testimoniato al Coventino di Gradara da una platea ricca di rappresentanti del settore alberghiero e della ricettività della provincia di Pesaro Urbino. Innanzitutto non c'è una gran crescita dei contagi, probabilmente anzi sicuramente grazie anche al Green Pass, il fatto che tanta parte della popolazione si sta giustamente vaccinando, quindi la vediamo con molto più serenità. L'estate non è finita, è finita una prima parte dell'estate, abbiamo dagli operatori il messaggio che ci saranno tante prenotazioni anche su settembre di chi non è riuscito in questa parte, per cui l'estate continuerà ancora settembre-ottobre, ma poi c'è già l'inverno, quindi stiamo lavorando per riaprire la stagione sciistica in totale serenità. Ad accogliere il ministro leghista al Coventino di Gradara, il coordinamento del sindaco di Cartoceto Enrico Rossi è una amministrazione gradarese onorata di essere scelta come location provinciale per la visita di Garavaglia. Per noi è stato un importantissimo riconoscimento la visita del ministro Garavaglia oggi qui a Gradara, che è un piccolo comune ma con grandi numeri turistici grazie al centro storico e alla rocca maltestiana. Quindi siamo onorati di aver accolto il ministro e tantissima anche la partecipazione degli operatori del territorio, non solo da Gradresi, ma di tutta l'area, da Pesola e Capice in modo particolare, per esporre al ministro alcune considerazioni e anche ascoltare poi quello che il ministro aveva da dire. Un incontro molto interessante e con importanti prospettive davanti a noi. Un futuro che mette nella sua agenda anche l'ultra rimandata ripartenza del settore delle discoteche. Intanto vediamo di dare un sostegno a chi è stato chiuso per legge e questo è già stato deciso e viene fatto. Poi speriamo ci siano le condizioni per riaprire, penso dopo l'estate.